con la macchina Sofia da ragazza era splendida tanto che quando io l'ho vista via Venite la prima volta stavo col poeta Sinisgalli seduto lei usciva con la madre da un negozio modista con un tagliore bianco magrissima, era magrissima, alta con questi capelli rossi quasi bella faccia, rideva ci siamo alzati in piedi io Sinisgalli per farle salutarle, che aveva dei complimenti aveva un temperamento straordinario era bellissima, aveva quasi un cuore napoletano era anche molto bravo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti